Quindi non posso più usare la mossa di casa? Ok va bene, salto il capo! Che vuol dire che non puoi spiegare un biglietto di auguri per il comprando di tua madre? E quanto ci viene a te? Ci rimarrà male! Inestate papà! Credo sia il momento di visitare la mia grotta oscura! Ok, va bene, basta così! Non pensavo di chiederti tanto! Coccoliamoci e basta allora! Perfetto? Però prima puoi aiutarmi a chiudere questa busta? No! Non riesco ad aggiungere il tasto iscriviti, potete farlo voi per me? Grazie mille! 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 Grazie mille!